Dalla sua creazione nel 1665, Saint-Gobain si è continuamente reinventata per adattarsi al mondo attraverso le epoche, accompagnando le rivoluzioni architettoniche e costruendo l'habitat del futuro. 350 anni di storia e così tante ragioni per credere nel futuro. Perché il mondo non ha confini. Saint-Gobain si è sviluppata molto presto oltre i confini francesi, da un impianto in Germania intorno al 1850 fino ad oggi, con una presenza in 64 paesi. Perché l'innovazione cambia il mondo. Saint-Gobain ha raccolto tutte le sfide tecnologiche con un'ambizione, migliorare l'habitat e la vita quotidiana. Soluzioni che i suoi clienti possono applicare nelle case multi-comfort o sperimentare nei centri di innovazione del gruppo. Perché l'habitat sostenibile è a portata di mano. Saint-Gobain concepisce, produce e distribuisce materiali da costruzione e ad alte prestazioni al servizio del comfort e dell'efficienza energetica. Perché l'habitat per tutti è possibile. La fondazione Saint-Gobain Initiative sostiene azioni di solidarietà verso le persone disagiate e i giovani senza lavoro. Perché i talenti sono infiniti. Da 350 anni i team di Saint-Gobain mettono il loro talento al servizio di milioni di clienti. Un progetto di impresa sviluppato nel rispetto di valori forti e condivisi da tutti i suoi collaboratori. Ed è proprio grazie a loro che Saint-Gobain crede fermamente nel futuro.